Presentazione dei calendari alla federazione, siamo con il padrone di casa, il presidente Felice Belloli. Allora presidente, un'estate di duro lavoro come sempre, alla fine però puntualmente sono arrivati tutti i gironi, i calendari e tutto è uscito nella norma. Beh, prima di tutto non sono il padrone di casa, sono in affitto delle società, ma a parte la battuta, grazie. Niente, con grossi problemi perché come ben sapete al 6 di agosto abbiamo avuto calendari già fatti quasi stampa, abbiamo avuto cambiare 14 gironi nelle varie categorie a causa della rinuncia di una scelta di eccellenza che tutti ormai siete a corrente. Devo ringraziare pubblicamente però a questo punto buona parte del personale, del personale addetto del comitato regionale che veramente hanno fatto le giornate più lunghe del solito ma lavorando proprio sodo e fermandoci anche qualche sabato. Siamo riusciti a mandare, ci sarà sicuramente ancora qualche errore di stampa però questo fa parte del gioco, data la tempistica nel programmare e nel stampare il tutto. Però ci siamo arrivati. C'è stata anche la novità del giovane in più quest'anno in pieno accordo con le società. Ma diciamo che, poi lo dirò in questa riunione con tutti gli organi di stampa, abbiamo ritenuto, ho ritenuto, dico io ma a nome del consiglio ovviamente, di coinvolgere maggiormente le società come cosa che avevamo già promesse in campagna così elettorale o propagandistica come la chiamo io e vorremmo mantenere queste promesse. Vogliamo il nostro così fiorello che dovrebbe essere il dialogo con le società. Se poi le società non vengono, la sento è sempre torto, dice un vecchio proverbio, io sono vecchio, i proverbio riconoscono. Però ripeto, siamo più che soddisfatti nella riunione che abbiamo fatto con le società di eccellenza, di promozione di prima categoria e abbiamo avuto delle belle discussioni. Sono usciti dei problemi, sono usciti dei suggerimenti che mi sono impegnato a portare in consiglio di Lega, poi alcune cose, sapete meglio di me, che non sono neanche da consiglio di Lega, ma da organi UEFA, FIFA, UEFA più che FIFA. Però portiamoli avanti insomma. C'è una cosa che si augura che quest'anno succeda o è una cosa anche che non si augura che succeda? Ma quello che non mi auguro non sia il brutto tempo come l'anno scorso perché quest'anno, grazie poi agli arbitri, grazie al comitato, ai collaboratori, soprattutto al signor Baretti, al mio vicepresidente, che fa le notti, siamo riusciti a portare a termine, come sapete i campionati nei tempi, nella tempistica giusta, ho solito per mandare o per segnalare a Roma le società vincitrici, parlo solo di Cerenza, per la Coppa Italia, per poi la Coppa Lombardia. Quello che mi auguro, come auguro a me, ma auguro che sia un bel campionato, corretto, leale e poi che vinca il migliore. Sicuramente quindi per questa primavera un suo saluto, un suo augurio alle società? Ma il mio augurio, ripeto, che sia un bel campionato, corretto perché ancora ieri sera ero all'inaugurazione del torneo in Scirea e c'era nella società, ero col sindaco di Cinisello, mi dicono che le società si lamentano per troppe multe, ma io vorrei non darne di multe, però il regolamento è quello, che le società si comportino correttamente, soprattutto gli atleti e anche i tifosi, che non ci divertiamo a darne multe. Ripeto, io l'augurio veramente è solo ripetitivo, che mi auguro, che auguro la società, visto che sono anch'io delle società, perché il calcio lo abbiamo nel sangue, che sia un bel campionato e soprattutto corretto e leale. Questo è un augurio che faccio la società. Poi, ripeto, può sbagliare la federazione, può sbagliare il centravanti, può sbagliare il portiere, sbaglia anche l'arbitro, ma tutto rimanga nella correttezza e nella realtà sportiva come è giusto che sia al nostro livello.